Domina! Se avete apprezzato la serie tv Spartacus o vi interessa il mondo dei gladiatori nell'antica Roma, questo è il gioco che fa per voi. In Domina andremo a impersonare la figura storica del lanista. Il lanista è il proprietario di una scuola per gladiatori, dove il lanista stesso va a reclutare schiavi potenziali gladiatori, dal mercato degli schiavi appunto, col fine poi di addestrarli, equipaggiarli ed eventualmente inviarli nelle varie arene al fine di combattere. In questo gioco l'impronta data dalla serie tv Spartacus è abbastanza evidente. Non so per quanto riguarda la veridicità storica dell'attività della scuola gladiatoria, però io già mi trovo a fare una battaglia, fantastico, va bene. Vediamo subito come funzionano le battaglie, visto che qua hanno deciso di fare quello che vogliono. Questa è la schermata delle battaglie. Ogni tot, tramite un indicatore che vi farò vedere in un secondo momento, vi verranno proposte delle battaglie. Vediamo la ricompensa per la vittoria, se ci sono costi di partecipazione, in questo caso no, se è prevista la possibilità di arrendersi per i nostri gladiatori, il tipo di incontro, in questo caso un 1 contro 1, se sono presenti eventuali ostacoli e quali sono i gladiatori che faranno avversari ai nostri beniamini. In questo caso possiamo scegliere un solo gladiatore, in altri casi potremo scegliere di fare entrare nell'arena più di un gladiatore. Quindi andiamo a cliccare su Pick Gladiators e la scelta è un po' forzata, nel senso che abbiamo uno schiavo senza alcun addestramento specifico, un tracce dall'equipaggiamento abbastanza basilare e un altro tracce a quanto pare un po' più esperto e con livelli di agilità di attacco un po' superiori. Quindi la scelta in questo caso sarà obbligata. Accettiamo i termini e vediamo come va la battaglia. Sì, state qua a sollevare le spade, quanto siete forti, quanto siete forti... E comincia. Speriamo di non prenderle già subito alla prima battaglia. Ah, la battaglia va per le lunghe. Ho fiducia che riusciremo a vincere. Ed infatti vediamo la testa di Marzius volare via dal suo corpo. Rose vengono lanciate, tutti sono felici, achievement sbloccati e siamo contenti. Come abbiamo detto prima, la ricompensa è stata di 115 monete, con uno schiavo, una carta e poi 38 monete derivanti dal favore e dalla folla. Quindi sesto è qua contento che solleva la sua spada e qua abbiamo il nostro nuovo schiavetto. Mettiamo un attimo in pausa per spiegare un po' le cose perché sennò poi devo fare le cose di corsa. Questa è la schermata principale di gioco, non c'è molto altro a parte le arene. Qua possiamo vedere la figura del... in inglese indicato come dottore, in italiano che io sappia si indica come maestro, è una sorta di allenatore sul campo dei gladiatori. Qua vediamo il legato che appunto, come dicevo, rappresenta il favore nel mondo militare. In questo caso ovviamente è molto basso, visto che non abbiamo ancora iniziato a fare praticamente nulla. E il magistrato che rappresenta invece il favore per quanto riguarda la forza politica. Questo banchetto ci indica il mercato, da cui potremo acquistare acqua, cibo, vino o eventualmente vendere il surplus che abbiamo noi di questi elementi ed eventualmente entrare nelle fosse, ossia una sorta di mondo sotterraneo in cui i nostri gladiatori vanno a combattere e guadagnano soldi oppure acquistare nuovi impiegati da far... da sfruttare per la nostra casa delle scuole di gladiatori. Qua invece possiamo vedere le benedizioni di Giove, ossia sono delle carte che danno una sorta di bonus durante gli addestramenti dei nostri gladiatori. L'ultimo elemento che ci rimane è la mappa dei giochi. Come c'è scritto qua sopra, bisogna vincerne tre per poter partecipare poi ai giochi finali di Roma. I giochi finali di Roma sono un po' come il boss finale del gioco. Si vince quelli, si vince tutto. Dicevo prima che ci ha preso un po' di soppiatto, noi abbiamo 360 giorni, in verità 365 perché all'inizio video 5 e me li sono mangiati via parlando, di tempo fino al fine gioco. Fine gioco poi ci saranno i giochi finali a Roma e di fianco vi diamo indicato quando ci sarà la prossima battaglia, in questo caso tra 7 giorni. Questa è la schermata del gladiatore. invece nel gladiatore possiamo andare ad aggiornare le varie armi, come in questo caso sto aumentando il livello dell'arma, possiamo aggiornare gli scudi o eventualmente le singole parti dell'armatura, ovviamente in cambio di un prezzo. Però se è bello vuoi apparire, un po' devi soffrire. E rieccoci con un'altra bella battaglia. Sesto non si è curato, per cui vediamo un po'. Diavolenus. Bellome. Minimo farà una strage. Accettiamo. Giù mazzate come se piovesse. E via la testa anche di quest'altro. E esultiamo, prendiamoci nei bonus e torniamo a casa. E chiudiamo con una battaglia direttamente dal volere dell'imperatore. Sarà un bagno di sangue, ma chi se ne frega. È un sacrificio che sono disposto a fare. Le battaglie... Dove è finito quello? Se ne è scappato! Curiazio! Vabbè, quello è un codardo. E se n'è andato via. Ma, sta andando anche meglio di quanto pensassi. Ecco, quello si è arreso. Curiazio ha deciso di tornare e dare un paio di mazzate. Sì, dai, Julius, però. Ci metti un secondo a farlo fuori il mio soldato. Ma non ci credo! Sesto ha vinto! Fantastico! Ecco, non ho potuto neanche fare in tempo a salvare. Vabbè, due morti. Però sesto ha vinto. Ecco, non ho potuto neanche fare in tempo a 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 fare in tempo.